questa è la firma di canna di mare questa ti piace filmare ragazzi firma firma farai dai voi questo di te non lo ricordo noi siamo a lua no 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 non si scherza eh te lo sai poi c'è il mio Dario però non si può presentare che lui non vuole presentarsi a uno dubbio non si può finire di mangiare no mangia 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 ancora fino ai 10 metri si può mangiare ti riempiti la pancia fa bene eh potevano mangia anche te che ti vede un po' no 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 a me non si schivano cuccia la pancia sul pezzo oh ma andate a cambiare ma andate a indire che l'abbiamo avuto il nuovo discorso quando tu vai giù andi al marzo che se no ti riesci il culo si sta schizzato